Ciao ragazzi, ciao a tutti, un saluto a Calcio Toro, perdonatemi per questi capelli post calcetto. Il calciomercato del Torino sembra quando su FIFA, cerchi dei giocatori di overall alto, soprattutto agli inizi questo succede, e vai là a fare l'offerta consapevole di non avere abbastanza crediti per poterli comprare e quindi proprio a 30 minuti dalla fine della vendita te li fregano a titolo definitivo. Prima di incominciare scaricate OneFootball, la migliore applicazione sul mondo del calcio, news, video, contenuti social 24 ore su 24, fantastica interfaccia, semplicissima da utilizzare, ragazzi non ce n'è, è la migliore e la potete scaricare gratuitamente dal link che trovate qua sotto in descrizione. Affrettatevi e fate un favore a me e ai ragazzi di OneFootball che se lo meritano. Detto questo direi subito di incominciare con il video. Kalinic sembrerebbe essere a un passo dal vestire la maglia granata per la prossima stagione. Allora qua ho letto molti pareri discordanti e ci tenevo a dire la mia. Comunque in ogni caso si passa da De Frel, Joshua King, Ciupomoting, João Pedro, nomi di questo tipo, che poi Ciupomoting vabbè, nomi di questo tipo a Kalinic. Kalinic, cioè il Torino va a trattare giocatori di livello per poi prendere soluzioni e non è tanto il fatto che non siano nemmeno paragonabili ai calciatori citati prima, ma proprio il fatto che o non siano funzionali per posizione o per età. Ragazzi, Kalinic è un giocatore di 32 anni, 15 gol negli ultimi tre anni, alla Roma moltissimi bassi e pochissimi alti, sicuramente un giocatore più comparabile per caratteristiche, più insomma spendibile assieme a Belotti rispetto a Roberto Inglese, Roberto Inglese che francamente è un calciatore che per caratteristiche mi sembra identico, almeno sulla carta ovviamente, al Gallo Belotti, di conseguenza non andrei a prenderlo mai, senza contare la sua fragilità agli infortuni, ma anche Kalinic è molto fragile agli infortuni, insomma è molto fragile, molto propenso agli infortuni, scusate, io ho molti dubbi su questa operazione, ma in generale non ce li ho, cioè io non me la prendo con il calciatore, me la prendo con chi lo va a prendere il calciatore, cioè la società, cioè si apre un ciclo a medio-lungo termine con Giampaolo, con un contratto di due anni con opzione per il terzo e il meglio che gli si riesce a prendere per le posizioni, per i ruoli chiave, sono Gaston Ramirez, 30 anni, tre quarti, pagato triennale con oltre 1.500.000 euro a stagione, e Kalinic, 32 anni, ormai reietto di qualsiasi squadra, giocatore completamente finito dai tempi della viola, molto probabilmente, per il ruolo di seconda punta. Senza contare che per il ruolo del play è stato rinnovato il contratto a Rincon, e non è neanche detto arrivi un regista titolare. Si stanno valutando diverse opzioni, anche queste rigorosamente over 30 e poco spendibili in un medio-lungo periodo, tra le quali sciune, per dire. Poi, insomma, certo, potrebbe arrivare una nuova offerta per Pausto Vera, è stato proposto già a Mario il Torino che viene valutato, ma il calciatore predivige lo sport in Lisbona. Ragazzi, ma è un circo questa società, è un circo anche alla squadra, è un circo tutto quanto l'ambiente Torino Football Club, da 15 anni a questa parte, ormai. Cioè, il fatto che siamo arrivati a prendere in considerazione, veramente in considerazione, un calciatore come Kalinic, che adesso, ripeto, è a un passo, e tra l'altro Gastor Ramirez, piccola precisazione, ancora non lo vedo Torino, e finché non lo vedo firmare non ci credo nemmeno. Siamo arrivati veramente a puntare a un calciatore di questo tipo per un progetto a medio-lungo termine, che fa abbastanza ridere, francamente. Tra l'altro, secondo il recente tweet di Matteo Pedrosi, sì, ci sono altre possibilità, il calciatore ha messo in stand-by il Besiktas perché predilige il Toro, comunque, tra parentesi, quando una squadra turca ti cerca vuol dire che sei un calciatore verso fine carriera, però il Torino vorrebbe chiuderlo immediatamente per paura di perdere anche Kalinic. Insomma, una roba ridicola, fa quasi paura questa cosa qua, e vabbè, e vabbè. Tra l'altro vorrei far notare anche un'altra cosa, ovvero che si cambia priorità e si cambia profilo di giocatore da un momento all'altro, visto che ad agosto la priorità era un regista giovane da mettere al centro del progetto, mentre adesso la priorità è una seconda punta di 32 anni. Comunque, ragazzi, zero programmazione, tanti nomi, confusione, non si capisce nulla, e alla fine, molto probabilmente, Nikola Kalinic sarà il partner d'attacco del Gallo Belotti, sperando possa resuscitare e ritornare un giocatore normale. 15 gol negli ultimi tre anni, ci tengo a ribadirlo, pochissimi assist, tra l'altro. Niente, questa era la mia opinione, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, ragazzi, non mi addentro bene nel... non entro nel dettaglio, comunque, se volete saperne di più o comunque interpellarmi, seguitemi su Instagram, scrivetemi in direct, poi farò anche live eventuali per parlare di questo calciomercato, video, valutazione, eccetera. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace, condividete il video, e niente, sempre forzatore, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!